Una simpatica idea, un revival di vecchie glorie dell'enduro motociclistico ha portato alla realizzazione della prima cavalcata dei centauri. Per l'occasione un centinaio di veterani, più o meno vetero e provenienti da tutte le miglia, si è data appuntamento sul terreno di gara, ricavato tra i sentieri e le carraie attorno a Casalgrande. Al via simpaticamente tanta gente, tra questi lo stesso Maletti, i cui pensieri sono già rivolti alla Parigi città del capo, l'ex Parigi Dakar. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La trovata, in sé assai felice, ha però dovuto fare i conti con il maltempo di questa notte, per cui la prova si è risolta in una specie di festival di paperissima, come potrete vedere. La trovata, in sé assai felice, ha però dovuto fare i conti con 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 i conti. Dopo tanti infruttuosi tentativi di superare questo quadro, si è fatto avanti un nome famoso, che per ora definiamo con il solo soprannome dei tempi d'oro, il mitico Black. Ed ecco i risultati. Che cosa gli ho detto? Che cosa gli ho detto? Che cosa gli ho detto? Volete conoscere il nome non di battaglia? Ebbene sì, è Riccardo Belleni, il nostro operatore, che ci aveva chiesto una domenica in conto ferie per riprovare i brividi antichi. Riccardo, visti i risultati, la domenica prossima sei precettato di nuovo dietro una telecamera. Battute e guadi a parte, il revival ha avuto pieno successo, perché lo spirito era già in partenza quello giusto. L'occasione cioè per ritrovarsi fra vecchi amici e l'appuntamento per il prossimo incontro è già stato fissato. L'occasione cioè per ritrovarsi fra vecchi amici e l'appuntamento per il prossimo incontro è stato fissato. L'occasione cioè per riprovarsi fra vecchi amici e la domenica. Di grande fischio è stato proprio spettato di un risultato di amici e la domani. L'occasione cioè per la domenica di amici e per la domenica di amici e la domenica di amici e la domenica che起來 sono una trattata molto bravata sulle fissate. All right.